Le ultime vicende legate all'Udc di Capitanata, partito spaccato dopo la sua nomina a coordinatore provinciale. Potrebbe essere questo il movente della lettera di minacce ricevuta dall'onorevole Angelo Cere dell'Udc. Ieri mattina una lettera, committente Lorenzo Cesa, è stata fatta recapitare all'abitazione di San Marchillamis del deputato centrista. All'interno della lettera, consegnata ai carabinieri e la compagnia di San Giovanni Rotondo, un foglio su cui viene scritto Traditore, verme, il partito non è tuo, vai al diavolo con i tuoi figli che faranno la fine dei fratelli episcopo. Minacce con un chiaro riferimento alle vicende l'Udc di Capitanata. Abbiamo evidentemente scombussolato, ha commentato Cera il Tg Blu, quei centri di potere che si erano configurati nella precedente gestione. Forse abbiamo fatto male a qualcuno. E con Cera si allunga la lista di lettere di minacce che sono state recapitate a uomini politici, magistrati, imprenditori e giornalisti della provincia di Foggia. Lettere che oltre alle minacce, a volte sono state accompagnate da proiettili di pistola e di fucile.